Questa è l'hommelico del mondo Questa è l'hommelico del mondo L'hommelico del mondo E qui che si incontrano facce strane Di una bellezza un po' disarmante Pelle di evano, compadre indigene Occhi smerato come il diamante Facce emetisce di raste nuove Come il millennio che sta iniziando Questa è l'hommelico del mondo E noi stiamo già ballando Questa è l'hommelico del mondo Oh l'hommelico del mondo Welcome to Corner Kick, the third week Buon jouere le match Si quelqu'un conteste la décision De l'arbitre de l'hommel de l'hommel Et vous respectez sur les assistants C'est le meilleur gag Me sifflez dans quelle mer, monsieur? Toi Le ton? Yeah, it's game, mate Uhuh Le plus beau but, je pense, c'était Ce qu'on a construit ensemble Partant du milieu de terrain Une belle action mener à quatre joueurs in applicando tutti i giocatori che erano presenti. Questo è uno dei miei preferiti del 6. È stato un gioco molto difficile per voi? Sì, è stato molto difficile per l'equipe. Il gioco, penso che ha riflettuto la visione del gioco. L'equipe sono tutti nuovi giocatori che non hanno avuto la chance di praticare un gioco per un tempo. Ma siamo confiati in noi. Abbiamo migliorato nel settembre del gioco. Ci siamo confiati nel settembre del settembre del settembre. Io non sono un gioco giocatori a la base. Io sono un gioco giocatori, sono un gioco giocatori. E anche se la scuola si è un gioco migliore, avete notato fino al migliore? Sì, credo che questo è il gioco. Il gioco giocatori, non ci si è il gioco. L'equipe non si è il gioco gioco. Malgrè il gioco di gioco, siamo qui per cercare di giocare, di marcare. Non abbiamo più questa volta, ma proviamo per la prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Ascoltata Alla prossima Poi mettere la pressione e giocare la scuola di difendere. Questo è quello che ho cercato di fare. Poi mettere la pressione. Out of ten, se hai uno, è abbastanza buono. Questo è quello che mi piace giocare in questo stile. È solo il nostro secondo gioco insieme. Comparato al primo gioco, è stato molto buono. Quindi credo che se noi giochiamo un po' più gioco insieme, sarà più buono. Abbiamo i giocatori che perdono la chimica, che sta inizialmente. Questa notte ai suonatori, iri, iri, ari, oh. Dentro all'acqua seguo il flow. Mai quest'onda mai mi affonderà. I squari non mi avranno mai. Quest'onda mai mi affonderà. Shalalalala. 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 Un'altra volta, un'altra volta. Ancora lui, da 6-7 i borsi che non erano. Voi dire, vedi, vedi. Il fuori un'altra volta. È stato un buon gioco. Abbiamo avuto molte chance, io e Bruno, in attacca. Abbiamo un bravo, abbiamo un altro chimico. Abbiamo conosciuto un po' lungo, quindi ha fatto un buon pass per me. Questa è stata un buon gioco. in modo da giocare bene e da giocare bene come squadra. Abbiamo una buona defensa, abbiamo una buona attacca, ma giocare insieme sarà il gioco per gioco per giocare il meglio della squadra. In Brasile abbiamo giocare da quando ero figli, quindi siamo nati da giocare. Quindi in Brasile o dove sei? Siamo da l'arrivo nord, Recife, la città è chiamata Recife, è un bel locale. Fittorio è fottile, soccolo, ho tutta la mia vita. Io ho gioco in centro-mid, ma è dipendente sul team. Io gioco in 5 a side, semi-pro, ma non ho mai fostato sui fottile, ho sempre fatto altre cose, ma sono da l'arrivo Nord. Questa è l'organizzazione? Non credo che sia parte di una squadra di un'organizzazione che è così disorganizzata, soprattutto a l'interno. Credo che oggi è stato un esempio principale. Ma è difficile da giocare, perché è una squadra di squadra. Non c'è solo uno o due individuali, è una squadra di squadra. Quindi se non c'è una squadra di squadra, se non c'è l'organizzazione a l'interno, se non c'è una squadra, se non c'è una squadra, se non c'è una squadra come oggi. E sei un'optimismo per il futuro, credi che potete capire la squadra? Possiamo scoprire golvi, ma bisogna di perdere concedere. Ho spero, abbiamo un buon team, abbiamo un buon team spirito. Quindi credo che è un buon che vi videoi questi game, possiamo vedere e spero di sapere per il futuro. So, sì, ho spero. Ma comunque, abbiamo proprio il nostro bestia. La maillotta, tu v Housing… La maillotta, tu vedi… Come i guardi… Questo è quello che mi guardi… ero… C'è chiara del solito… Sono 40 dollars. Sono 40, Espebrezza ma c'è… Non, non, io non volevoicorni con il St-X… Non, se avete le montaggio con la non scoperta… …dannate le multi tag potere, le mini tag potere… …gredità di 4-50 dollars a qui ci sono tutto. E poi si metti la cosa, Alla cosito… Impostigna parte tenere… Non non, non chiama… Se scemo ci trasera… Sì, puoi giocare davanti. Tu puoi mettere davanti lui. Non c'è un'equipe, non c'è un changement, quindi bisogna mettere tutto davanti. Non c'è un changement, bisogna economisare, quindi giocare, semplicemente. Tutti che non vedo, mi laissi signale. Non c'è un sentimento. Se c'è qualcosa che non vedo, e anche se non si non si entriamo, appelliamo! Tu hai visto oggi, e anche la settimana passata, che tu hai visto nel terreno, con l'essence tattica. Qual è la tua storia? Beh, in realtà, io sono nel campo, ma anche in attacca. Sauf che i miei amici, io sono nel campo, ma anche i miei amici, io sono nel campo, e io sono nel campo. Quindi, io sono nel campo. Come si è un altro campo. Io sono nel campo, in Africa centrale. E io ho iniziato a giocare tutto da qui, come tutti. Ma cosa è una squadra? Quali l'altra 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 squadra? dato di tutto da qua. Il centro di Portobara. Guardi nostri demorizzati, già devi arrabbiare. Escuto vena musica, che neiz dà nessun tempo. Tu, la tele, si, chichi, vieni che fesi te dancin'. L'Urigodone, è l'Urigodone. Già tutta dancio, il palo talsiasmo. L'Urigodone, è l'Urigodone. Escuto coviere, ma solo vengen qui, L'origodon, es l'origodon Chato ta danzo e palo ta chassu L'origodon, es l'origodon